Soldi, 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 quanti soldi! È vero che nel calcio per vincere servono i soldi e se la Cararese ha ripreso a sogliare è anche perché una possidente dirigenza le ha regalato un mercato d'altri tempi e d'altra categoria. Però la squadra scesa in campo ieri, quanto a soldi, era benoricca del solito, carente com'era, di due gemme preziose come Vigiani e Zampagna che risentivano di malanni, speriamo, di stagione. Eppure la squadra di Francesco Monaco, sospinta da un Gazzoli che ha portato a 360 minuti la sua imbattibilità, da un Anzalone che a sistemare la difesa pare Franco Baresi, da un Corrent non alternato, da un Orlandi che sembra Paolino Corsi dei tempi d'oro, da un Giovinco che ubriaca gli avversari più del whisky e da un Vierino Strano di nome Cori, dicevamo, la squadra di Francesco Monaco funziona. Terza vittoria consecutiva e primato in classifica a pari merito con la sorpresa Carpi. Non che la partita sia stata una passeggiata, il Fano è sempre stato sulle gambe ed è servito un super Gazzoli, oltre a molto altro, per portare a casa i tre punti. L'entusiasmo provoca la partenza sprint degli Azzurri davanti ai 1500 dello Stadio dei Marmi. Al nono la Carrarese rischia grosso. Ionni, non sa come neanche lui, si ritrova una palla sottoporta, ma il suo tiro viene ribattuto da un provvidenziale Benassi. Al quindicesimo è di nuovo la Carrarese a farsi viva in avanti, fuga nella fascia di vita a doppio passo, ma il suo traversone si perde nel vuoto. Al venticestesimo ci prova Conti, con un tiro dalla distanza che si alza sopra la traversa. Dalla parte opposta è di Crescenzo a costringere Gazzoli all'intervento decisivo. È il prodromo del gol. Due minuti dopo, un traversone di Corrent, provoca un batti e ribatti in area, arriva Cori e mette la palla dentro, facendo esplodere lo Stadio dei Marmi. Il secondo tempo inizia con un altro episodio dubbio. Al cinquantunesimo Conti ruba palla sulla trequarti, entra in area, lo contrastano due avversari, cade, ma l'arbitro dice che si può andare avanti. Al cinquantacinquesimo il Fano torna a farsi vivo nell'area azzurra. Il cross di Campodaglio trova Iazzetta pronto alla deviazione. Devono passare 22 minuti per trovare una nuova azione pericolosa, ed è il Fano ad esserne ancora protagonista. Benassi si immola su colpo di testa di Trimarco e manda la palla in calcio d'angolo. A fine partita è Giovinco a seminare il panico nella difesa avversaria. All'ottantunesimo reclama un rigore, un minuto più tardi costringe gli avversari a ricorrere alle maniere forti per fermarlo al limite dell'area. La sua punizione è però poco alta sopra la traversa. All'ottantasettesimo traversone del neo entrato Trocar, colpo di testa di Cori, alto di poco. Negli ultimi minuti il Fano si riversa nella metà campo azzurra alla ricerca del pareggio. A 60 secondi dalla fine però la conclusione di Trimarco viene parata da Gazzoli. Finisce così con la prima vittoria casalinga degli Azzurri e con un primato che non era solo il sogno di una notte di fine estate, perché si sa, nella vita i soldi non sono tutto. Viva i soldi! I soldi, i soldi, ovvero Papa Braschi ti danno donne e whisky salute e lì di maschi perché chi ha tanti soldi vive come un fasciato.